. Atletica, Mondiali-Londra 2017, le finali di giovedì, Taylor nel triplo, Van Nieker K200, Nwamad nei 400 HS. Tre titoli in palio, serata di atletica, la settima nella cornice londinese. Si apre, alle 21.20, ora italiana, con il triplo maschile. Il favorito è l'americano Christian Taylor. Oltre i 18 in stagione, non lontano dal primato mondiale, un salto per certificare l'approdo in finale. Stando alle misure del 2017, il principale avversario è il connazionale Klayer, alterno però in fase di qualificazione. Cappellino e consueta mimica, diversi errori però in fase di preparazione. Il terzo americano, Bernard, 17.40 nell'annata corrente, è da medaglia. Possono inserirsi i cubani, Diaz, Napoles e Martinez, in ordine di pericolosità. Alle 22.35, 400 HS femminili. Manca la Little, sotto i 53 ai Trials, ci sono Mwamad e Carter. La Mwamad sembra avere margine, due turni in controllo, da svelare il reale potenziale, l'effettiva condizione. Corsia 4, attenzione alle sorprese europee. Sprungere e soprattutto Enova possono alterare lo spartito a stelle strisce. Condizione eccellente per la cieca, perfetta preparazione in vista della rassegna mondiale. La Carter, alla luce di una semifinale modesta, è all'esterno, in corsia 9. Vaidevani e Kirk non ha qui la stessa superiorità dei 400, deve anzi spremere il massimo per completare la doppietta. In finale senza brillare, si trova in corsia 3, osserva da vicino Young e Gulliev. In 6 Mwamad, fermato inizialmente da un virus intestinale e ieri costretto ad una doppia fatica. 200 in solitaria per trovare un crono utile ad entrare in semifinale, poi seconda fatica e pass per l'atto conclusivo. Richards, in 7, la variabile. 21 e 20 Mwamad, final 22 e 35 W 400 ms hurdless final 22 e 52 M 200 ms final.